1793, Tolone, Napoleone sconfigge monarchici e anglo-spagnoli, sarà generale ed ivriata. 1946, Ho Chi Minh attacca i francesi ad Anòi, inizia la guerra d'Indocina. 1996, muore Marcello Mastroianni. Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Hong Kong è il luogo di incontro d'Oriente e Occidente, continua ad essere un sogno, è un segno di contraddizione. 19 dicembre 1972, rientra sulla Terra la missione Apollo 17, sinora ultima missione dell'uomo sulla Luna. Partita il precedente 7 dicembre, per la prima volta di notte, è comandata da Eugene Cernan. Nel corso delle 74 ore e 59 minuti trascorsi sulla Luna, gli astronauti raccolgono diversi campioni di suolo. Fra questi anche l'unico pezzettino di basalto lunare custodito in Italia. a regalarlo al governo del nostro paese.